Si è chiusa con una sentenza di assoluzione, una vicenda che aveva destato molto scalpore in città, spaccando in due l'opinione pubblica. Don Stefano Segalini, ex parroco di San Giuseppe Operaio, è stato assolto. Questa è la sentenza nel processo di primo grado che si è tenuto stamattina in tribunale. Segalini era stato arrestato nel 2019 con l'accusa di violenza sessuale e riduzione di altre persone in stato di incapacità. Il PM Emilio Pisante aveva chiesto sette anni l'assoluzione per quest'ultima accusa. Mi sono affidato alla Madonna, ha detto Don Segalini fuori dall'aula e ora auspica una riconciliazione. Io come ho detto all'inizio di pregare la Madonna e Gesù e ci avrebbero pensato loro e oggi è la natività di Maria Vergine e ci hanno pensato loro. Io mi sono affidato alla Madonna che è la mamma di tutti e io sono convinto che ci aiuterà tutti come fanno le mamme a capirci, a spiegarci se ci sono state le incomprensioni e riconciliarci. La sentenza è stata emessa dal collegio giudicante presieduto da Stefano Brusati. In dibattimento non si è raggiunta la piena prova oltre ragionevole dubbio, per alcune ipotesi invece il fatto non costituiva reato. Le motivazioni della sentenza saranno depositate più avanti. Le indagini che hanno portato a questo processo erano state compiute tre anni fa dalla squadra mobile che aveva raccolto testimonianze di abusi sessuali che avrebbero subito alcuni giovani parrocchiani. Don Stefano Segalini è stato difeso dall'avvocato Mario Zanchetti, oggi sostituito dal collega Daniele Loglio. La risposta che ha dato il tribunale ai quesiti che rimanevano sul tavolo è stata articolata, differenti per varie singole posizioni, comunque concludendosi per una esclusione di responsabilità penale di Don Stefano. Da questo punto di vista ci auguriamo che dopo questa sentenza sia possibile ritrovare una riappacificazione e si possa chiudere quella frattura che si era avuta nella comunità di Piacenza. Grazie a tutti.